Sì, esce il giorno 7 di giugno, quindi noi siamo al 6, quindi adesso esce. Il progetto è totalmente di inediti, sono sette tracce in cui mi presento un po' perché comunque all'attivo ho quattro tracce e quindi secondo me c'è bisogno di un ulteriore lavoro di fortificazione del personaggio e quindi niente, parlo molto di me stesso, ho scritto queste tracce in cui racconto un po' quello che sto vivendo in questo periodo e il titolo del progetto è assurdo perché un po' racchiude la vibe, il mood di questo anno che ho passato e quindi si parla molto della mia situazione cercando poi di partire dalla mia situazione per arrivare a temi comuni, si parla poco di amore, poco amore ma evidentemente in quest'anno poco amore, poco sesso, ci devo fare. Si parla anche di attualità in una traccia nello specifico e niente, sono sette tracce che vanno ascoltate dalla prima all'ultima per come l'ho pensato almeno, sono comunque 25 minuti che ti devi mangiare tutti assieme senza passare e saltare da una traccia all'altra. L'idea è quella proprio di comunque fare vivere una storia o comunque far ascoltare una storia all'ascoltatore dalla prima all'ultima traccia e ascoltato si può notare che c'è comunque un filo conduttore a livello sonoro in tutte le tracce, comunque hanno tutte un corpo, è come se fosse un'unica traccia un'unica traccia spalmata su sette tracce, quindi ci sono varie cose, secondo me è una figata, il disco è una bomba, quindi ascoltatelo.